Muro rinforzato! Attivazione di PNR. Dispositivo piazzato. Muro fortificato! Piazza di PNR. Dispositivo piazzato. L'ultimo attacco è rimasto in vita. L'ultimo attacco è rimasto in vita. L'ultimo attacco è rimasto in vita. Cambio caricatore! L'ultimo attacco è rimasto in vita. L'ultimo attacco è rimasto in vita. L'ultimo attacco è rimasto in vita. Carica in riscata. L'ultimo attacco è rimasto in vita. Attività nemica. L'ultimo attacco è rimasto in vita. 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 Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. 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 Squadra d'attacco eliminata. Missione completata. Sei in una zona controllata dal nemico. Lascia l'assunto. Siamo a 15 secondi. Non so, non so, non so. Il tempo scade tra dieci secondi. Proteggete il contenitore di biorischio. Rimano le 5 secondi. Il primo nemico rimasto. Squadra d'attacco eliminata. Missione completata.